Buonasera a tutti, benvenuti. Io mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Antonio Danieli, direttore generale della Fondazione Golinelli. Saluto a nome della Fondazione tutte le personalità intervenute, il ministro Dario Franceschini, il presidente Stefano Bonaccini, il sindaco Veginio Meola, il rettore Ivano Dionigi, il prefetto Sodano e il questore Coccia, il presidente Marino Golinelli e il vicepresidente della Fondazione, il professor Zanotti, tutto il CDA attuale, tutti i componenti anche del CDA passato. Ecco, ringrazio veramente tutti quanti voi per essere qua assieme. Dovete sapere che provenite da tutta l'Italia, siete importanti rappresentanti di amministrazioni pubbliche, di fondazioni, di organizzazioni del terzo settore, di imprese, di istituti bancari, di centri di ricerca, di istituzioni scientifiche e culturali, siete rappresentanti del mondo della cultura, dello spettacolo e dei media. Sono qua con noi anche lo staff e i collaboratori della fondazione e tutti i progettisti, i professionisti e i tecnici che hanno collaborato alla costruzione dell'opificio. Ecco, questa è un'anteprima inaugurale, è anche una conferenza stampa, abbiamo dei tempi molto serrati e quindi andiamo subito al programma. A me l'onore di introdurvi e di spiegarvi, di farvi capire cos'è l'opificio Golinelli e chi l'ha voluto e perché l'ha voluto così fortemente, seguirà un intervento del professor Andrea Zanotti, vicepresidente della fondazione, poi avremo i saluti istituzionali, il sindaco Merola, il presidente Bonaccini e il magnifico rettore professor Dionigi. Poi avremo uno piccolo stacco musicale che sarà il preludio alla parte conclusiva con l'intervento del ministro Franceschini e del dottor Golinelli. Tutta questa assise durerà circa un'ora o un quarto, quindi per un quarto, sette e venti circa, termineremo e dopodiché sarà possibile visitare l'opificio e tutti i nostri ragazzi e ragazze saranno nei punti importanti per spiegarvi in futuro a quale attività sarà debuttato questo luogo e quindi lo potete visitare liberamente e anche ci sarà un piccolo buffet. Bene, iniziamo, a me è il compito di illustrarvi cos'è l'opificio e per questo, prima di iniziare una breve presentazione, mi farò aiutare da un video. Prego. Grazie. 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 Vedete, penso che avete già un po' compreso dal video, che non è possibile capire cos'è l'Opificio Golinelli se non si compende cos'è la fondazione e se non si compende alcuni tratti del fondatore. Marino Golinelli. Marino Golinelli innanzitutto è un imprenditore, è un imprenditore che ha creato un'azienda il 24 gennaio del 48, l'Alfa Biochimici, quasi 70 anni fa, in quei giorni entrava in vigore la nostra Costituzione, Luigi Einaudi veniva eletto secondo presidente, e questa azienda ha attraversato quasi 70 anni di storia, diventando oggi uno dei principali gruppi farmaceutici a livello internazionale. È evidente che questa non è la storia di questa sera, questa sera raccontiamo un'altra narrazione, una narrazione che parte sempre da Marino Golinelli, ma Marino Golinelli cittadino, dotato di valori, ricco di valori e uomo di cultura. Tre elementi, velocemente. Responsabilità. Il dottor Golinelli decide, a un tatto del proprio percorso, di restituire parte della propria fortuna alla società. Secondo elemento. Visione. La visione di questa restituzione prevede che educazione e cultura implicano sviluppo, ancorché sviluppo sostenibile. Ecco, lo sviluppo è dato dalla coesione sociale e dall'innovazione. Educazione e cultura danno partecipazione democratica, danno coesione sociale e dall'alto generano innovazione. Coesione e innovazione ci danno sviluppo. Secondo aspetto di questa visione, rubiamo questo termine, solo questo, ma è molto esplicativo e significativo, al premio Nobel Ekman. Una predistribuzione. Non solo Golinelli ridistribuisce, ma decide di predistribuire. Cosa significa? Significa investire risorse preziose in attività di educazione dei giovani, quando le menti sono ancora aperte e in grado di maggiormente apprendere e crescere culturalmente. Quest'operazione, se ispirata in maniera massiva, può dare un contributo importante a un cambiamento del paradigma futuro, anche in termini di welfare, pensando all'educazione e cultura come parte integrante del welfare. Pilastri, assieme alla sanità e alla socioassistenza. Terzo elemento, passione. Golinelli, alcuni non piace questo termine, ci mette la faccia, che è una fondazione che porta il suo nome, che è la fondazione Golinelli. Non è più minorenne, però è giovane, 27 anni d'età, nasce in occasione del nono centenario della mamate, nell'88, è privata, filantropica, operativa e strategica. È dotata di un patrimonio, di una governance indipendente e autonoma, di programmi, di idee, di progettualità che la proiettano nel futuro. Ha una struttura operativa, un direttore e uno staff di 40-50 persone, ma in realtà durante l'anno sono oltre 100 le collaborazioni. Per la maggior parte anche i ragazzi under 30, dell'università, ricercatori e dottorandi. Dal 2014 Marino Golinelli decide di togliere Marino dal nome della fondazione. La fondazione diventa Golinelli. Questo è un atto che serve a porre la fondazione nella collettività. Ecco, la fondazione per fortuna non è sola. Ci sono più di 6.200 fondazioni in Italia, di cui 1.700 operano nel campo educativo e 1.500 nel campo culturale. Ecco, vedete dei numeri che, per esempio, parlando dell'istruzione, le 1.700 fondazioni spendono 1.250.000.000 nel settore dell'istruzione. A Luca, la scorsa settimana, il ministro Giannini citava il suo budget del ministero, 52 miliardi, di cui 49 per gli stipendi, giustamente, e per tutte le attività necessarie, gli immobili, eccetera. L'Italia ha un budget che è pari al 4,5% del PIL, cioè 68 miliardi in educazione. E quindi si vede quanto il ruolo di 1.700 fondazioni sia importante, perché è quel lievito dell'innovazione che dà spinta ai modelli educativi. Un altro aspetto importante è che, giustamente, le fondazioni bancarie sono molto importanti e connettono il tessuto del nostro territorio italiano. Qua è presente anche il direttore generale dell'Arche, Giorgio Righetti, che ringrazio, come è presente anche il vicepresidente di Assifeo, l'associazione delle fondazioni private, Stefania Mancini. Ringrazio loro, poi ci sono molti rappresentanti delle fondazioni. Ma il ruolo delle fondazioni private sta diventando equiparabile per impatto a quello delle fondazioni bancarie. Perché dico questo? Perché la fondazione non è sola, ma per certi aspetti è unica. Perché è unica? Perché guarda al futuro. 2065 potrebbe sembrare un lasso di tempo abbastanza avanzato, è un po' là, è lontano. Io personalmente ho due figli, uno di 5 e uno di 17 anni, avranno 55 e 67 anni. Cosa dobbiamo dare a quegli uomini del futuro, che sono i giovani di oggi? Educazione. Perché? Perché il 2065 ci vede sempre 61 miliardi, grosso modo, noi italiani. Ci vede un po' longevi o invecchiati, diciamo, 1 su 3 over 65, in età lavorativa 1 su 2, 14% metici. E nel mondo avremo 9 miliardi di abitanti. Già oggi la concentrazione della ricchezza e coefficiente di Gini in Italia è il 64. Per quel contesto dobbiamo dare degli strumenti oggi ai nostri giovani, per dare una risposta alla domanda, l'Italia vuole giocare un futuro importante nel mondo globale? La Fondazione Golinelli dice sì e per questo aiutiamo i giovani. Come? È qui l'unicità dell'approccio. Attività educative, formative e culturali da 0 a 100, principalmente ai giorni, l'abbiamo detto, ma da 0 a 100 seguiamo l'escurso della vita dell'uomo e delle donne. Un approccio multidisciplinare alla cultura, olistico, unire il sapere a saper fare. Ci rivolgiamo dunque e questo luogo diventerà un luogo destinatario per chi? Per studenti, per genitori, per famiglie, per insegnanti, per impenditori, per aspiranti tali, per scienziati, per artisti e per pensatori. Questo la Fondazione non lo fa da solo, lo fa in rete con più di 100 partner istituzionali, amministrazioni, partner scientifici, culturali, imprese, organizzazioni no profit, il Laga Pant rappresentato qui oggi. Ecco, i nostri programmi principali attualmente sono sei. Li scorro velocemente perché già nel filmato sono stati illustrati e il tempo è tiranno. Scuola delle idee, orientamento e creatività fin dai più piccoli. Scienza empatica, passione, metodo e sperimentazione per gli adolescenti. Passione nei confronti della scienza e della tecnica. Giardino delle imprese, imprenditorialità per i giovani. Basta con l'età media, 34 anni, per un nero imprenditore in Italia. Diamo aiuto ai giovani, ai 15 anni, ai 16 anni, che sono ricchi di innovazione e di creatività. Diamoli fiducia, diamoli possibilità. Educare, educare. Aggiornamento, sostegno e meritocasia per insegnanti. Programma nazionale, in collaborazione col Miuo e con l'Accademia degli Inceri. Scienza in piazza, la conoscete. Manifestazione culturale che porta scienza e cultura per i cittadini e le famiglie direttamente nelle piazze e nelle strade. Arte, scienza e conoscenza. Un approccio olistico per stimolare il pensiero critico, rivolto a tutti quanti noi. Ecco, la Fondazione Golinelli, sintetizzando, si dà l'impegno di educare alla conoscenza, dotando quindi, soprattutto i giovani, di una nuova cassetta degli attrezzi, che dia strumenti come la creatività, la passione, il saper imparare, la fiducia, l'etica, la responsabilità sociale, il civile. Un approccio multiculturale, aperto alle culture, aperto alla globalità del mondo. Stimolare il pensiero critico, saper sperimentare, saper sbagliare, immaginare il futuro. Ecco, tutto questo perché? Per gestire la complessità del mondo globale. È un futuro in larga parte imprevedibile, ma non per questo non possiamo affrontarlo con fiducia. Noi dobbiamo dare la possibilità ai giovani di scegliere liberamente, sottolineo la parola libertà, che tornerà nel determinare le proprie aspirazioni. Ecco allora l'Opificio Golinelli. L'Opificio Golinelli racchiuderà tutto questo, un abito sartoriale per accogliere tutto questo. Innanzitutto due anni. Dottor Golinelli, voi dovete sapere tutti quanti che il dottor Golinelli prende a punta la notte. La mattina dell'1 marzo 2013, è arrivato con suo calepino, intitolato Ingegneri Danieli. Ingegneri Danieli, la visione è questa, Opificio. Due anni, i ringraziamenti che dobbiamo fare sono tanti, li faremo successivamente. 9.000 metri quadri, 12 milioni di euro di investimento complessivo, un luogo che sarà rivolto a 150.000 presenze all'anno, di questa moltitudine di soggetti. Ospiterà tutte le aree progettuali e principali della fondazione che vi ho raccontato. E nel momento in cui nasce, è un luogo già inserito in un network italiano-europeo di centri culturali scientifici analoghi, ma ha una sua peculiarità. Diciamo che è più spostato sull'attività del laboratorio, più che sull'attività espositiva. È un luogo del fare. Opus facer. Architettura. L'Opificio, lo vedete, lo vedrete meglio dopo, nasce con una metafora di città, una cittadella. Un luogo dove tutti questi soggetti, studenti, insegnanti, famiglie, imprenditori, scienziati, artisti, avranno i loro luoghi deputati e vi sarà una contaminazione tra tutti questi soggetti. Una metafora della città. È stato architettonicamente pensato come un luogo per essere non finito, in modo tale che quasi come metafora di un organismo biologico cresca e si evolva a seconda dei soggetti che lo vivranno e vi costruiranno un sapere internamente. Si passa dall'infinitamente grande, dallo spazio che lancia verso il cielo, al microscopio, dal nano all'infinitamente grande. Ed è evidentemente un luogo per molteplici ispirazioni, per molteplici suggestioni percettive, un luogo che ospiterà anche non solo scienza, ma arte, luce e colore. Ovviamente non abbiamo in una zona così particolare aggiunto un grammo di cemento, abbiamo messo del verde là dove non c'era. Bologna, città metropolitana. Il luogo, ho visto con entusiasmo, riporta la parola libertà. Ecco, questa è Bologna dall'alto. È una foto fatta dalla stazione abitante da un astronauta giapponese, e Bologna è innevata dall'alto. Ecco, l'opificio nasce per dare un contributo a una concezione policentrica di Bologna, città metropolitana. Policentrismi, nuovi luoghi di aggregazione, periferie che a maniera osmotica si connettono al centro, dialogano tra loro, scambiando idee, innovazioni, persone. Esterno, locale, sul territorio, visione interna, globale. No barriere architettoniche, no barriere culturali. Deve essere il paradigma di una città smart. Per la fondazione Golinelli, smart significa una città dove vivi liberamente e che cresce ed evolve continuamente. Ecco dunque, quale sarà il metodo, il metodo dell'acceleratore verso 2065. L'opificio Golinelli. Un luogo dell'apprendere facendo. Un luogo che guarda al futuro, che si posiziona sul non conosciuto per cercare di dare strumenti ai giovani, ma partendo dal bagaglio millenario della nostra storia. Ecco, vogliamo sostenere un'idea di metamorfosi. Si ragionava su vari termini, palingenesi, qua nulla è morto, guardate che vivacità che c'è. Qua c'è da supportare una metamorfosi verso il futuro, per un'idea di sviluppo che va oltre il sostenibile. Ecco, col dottor Golinelli questa visione è nata alcuni anni fa, c'è un messaggio che ci accompagna in previsione cinque anni fa dell'expo che avanzava, siamo all'expo, l'expo è un punto di partenza per il futuro, l'opificio Golinelli sarà un punto di partenza per il futuro. Portiamo avanti un messaggio importante del dottor Golinelli, la cultura nutre il pianeta, ed è con questo che io vi saluto e vi ringrazio e vi do un sentitissimo arrivederci al 3 di ottobre per l'inaugurazione alla città, alla regione e all'Italia. Grazie. Questo applauso è per il dottor Golinelli. Prego il vicepresidente della fondazione Andrea Zanotti. Buonasera a tutti, grazie ad Antonio. Dico che questo nostro ritrovarci qui oggi non è solo legato ad un'occasione di singolare rilevanza e di forte impatto comunicativo. Questa giornata è il frutto di un lavoro di lungo periodo e di una consapevolezza ormai matura della fondazione Golinelli dopo i suoi primi 27 anni di vita. Nata per volontà del suo presidente Marino Golinelli, essa è cominciata ad operare nel contesto inerente alla ricerca scientifica di concerto con l'Università di Bologna, che festeggiava allora nel 1988 il suo novecentesimo compleanno. In questo lungo torno di tempo, la fondazione Golinelli ha cambiato più volte abito statutario, ha mutato indirizzi ed oggetti del suo interesse, passando dal sostegno alla ricerca, alla diffusione del sapere scientifico, per approdare poi al grande campo della formazione, laddove si gioca il futuro delle generazioni più giovani e perciò stesso anche il nostro. Il nostro grande si è inserito in un contesto più vasto, che tocca tutto il quadro ed insieme delle fondazioni che agiscono in Italia, caratterizzato sino a qualche tempo fa da una visione assai statica, ispirata essenzialmente alla figura della fondazione di erogazione, volta a distribuire i frutti del proprio capitale dotale in borsi di studio o sussidi di vario tipo ad attività filantropiche o di beneficenza. Da questo punto di vista, il divario rispetto al mondo anglosassone, dove l'apporto dei privati alla costruzione del bene comune ha rivestito e riveste enorme importanza, è di tutta evidenza. Negli ultimi vent'anni, tuttavia, il modello giuridico di fondazione si è venuto arricchendo anche nel nostro Paese, dilatandolo fino a farlo quasi esplodere, in figure istituzionali di tutto inedite nel nostro ordinamento, quali ad esempio le fondazioni di partecipazione, le fondazioni bancarie, le fondazioni pubbliche, le fondazioni di impresa e via discorrendo. Ma il dato che conta, al di là di un'auspicabile rivisitazione che ridisegni l'utilizzo di questo strumento giuridico, è quello per il quale si è cominciato a capire che l'apporto delle fondazioni private non si limita solo al sostegno economico ad iniziative svolte nel pubblico interesse. Ci si è accorti, cioè, che l'esperienza, la capacità e la sensibilità di privati e gruppi di interesse potevano costituire non solo risorse economiche a settori pubblici in difficoltà crescente, ma ben oltre volani di sviluppo e portatori di aria nuova sul terreno di una ricerca sempre più vicina al trasferimento tecnologico e di una cultura della valutazione che solo negli ultimi anni ha fatto capolino nelle nostre strutture culturali ed aziendali. Abbandonati almeno linee di tendenza ai lidi del puro filantropismo, le fondazioni, anche nel contesto italiano, hanno progressivamente interpretato una nuova centralità e propulsività, rendendosi disponibili ad assumere nuove sfide. Nella problematicità di interventi pubblici in settori strategici, quali la ricerca e l'innovazione, lo spazio occupato da fondazioni private, divenute sempre più operative e sempre meno assistenziali, si dilata di giorno in giorno. Su questo terreno la fondazione Golinelli ha sempre cercato di precorrere i tempi, modellandosi non da oggi su esempi ed esperienze di fondazioni anglosassoni, meno rigide nell'impostazione istituzionali e più propense a dar corpo a quello spirito di intrapresa che ne contraddistingue l'azione, e richiamando talvolta sia il versante pubblico che quello fondazionale privato ad una maggiore consapevolezza del ruolo, anche economicamente anticiclico, che queste istituzioni, sino ad oda assai marginali nel contesto italiano, invece possono e debbono recitare. In questa prospettiva, non da oggi abbiamo sovente richiamato, anche ad autorità governative di diverso indirizzo di estrazione politica, il ministro Franceschini lo sa, la necessità che le fondazioni possano avere trattamenti IVA ed IRAP differenziati e più favorevoli rispetto a quelli destinati alle imprese, la possibilità di incentivare fiscalmente le donazioni in loro favore, l'urgenza di costruire corsie preferenziali che consentano un ingresso ed un'uscita facilitati di giovani da quel parco sperimentale delle innovazioni rappresentato di prospettiva dalle fondazioni. Dunque, alcuni passaggi cruciali si sono consumati ed è stato importante aprire una via che consentisse di poter dare cittadinanza alle fondazioni private dentro ad una concezione di sussidiarietà che ha consentito di promuovere come valore fondamentale l'aiuto dei privati nel perseguimento di finalità di interesse generale non più raggiungibili solo dalla mano pubblica. Tuttavia non ci possiamo fermare qui. E non è probabilmente questa la strada destinata ad aprire ad un futuro che già abita i nostri giorni. La stessa idea di sussidiarietà, infatti, implica che l'istanza maggiore e quella decisiva nell'interpretare il cambiamento sia identificata nella macchina statuale alla quale i privati danno una mano nel colmare lacune o nel sostenere iniziative di intraprese che hanno bisogno di uomini o risorse aggiuntive. L'idea è che l'operatività del privato, cioè, sia fondamentalmente volta a supplire a carenze del pubblico surrogandone l'azione. Per parte nostra crediamo che non sia più così e che i cambiamenti straordinari preparati ed inverati dall'avvento della tecnica implicano un radicale cambio di mentalità e di approccio. In un mondo divenuto ormai imprevedibile, le conoscenze e l'elasticità richieste fanno mutare funditus le esigenze formative e di bisogni di sperimentazioni inedite. Difficialmente le macchine statuali e le burocrazie amministrative potranno da sole far fronte alla prepotente richiesta di futuro che si sta profilando e che spesso, e non certo per colpa loro, ma per il limite dato dalla loro stessa genesi e conformazione, non sono probabilmente nemmeno in grado di percepire. Servono strumenti più agili ed adattivi, in grado di captare i segnali di un nuovo tempo, decodificarli, sperimentarli e renderli fecondi. Le fondazioni private sono oggi i soggetti più indicati per aprire quelle vie nuove di cui abbiamo bisogno, per corrispondere alla straordinaria vivacità con la quale i giovani vogliono conquistare ed abitare un mondo che sarà profondamente diverso da quello che noi abbiamo ereditato. In capo alle fondazioni sta oggi una primogenitura importante che le porta verso un'identità nuova, assai diversa dal modello di erogazione dalla quale provengono, ma anche altra rispetto a quel ruolo sussidiario che pure ne ha rivalutato in questi ultimi anni funzioni ed apporti. Ripensare il futuro per non essere costretti a rincorrerlo inutilmente. E questa è la vocazione che sentiamo oggi di Fade Nostra almeno fino al 2065, data che Marino Golinelli ha ironicamente, ma convintamente indicato, come linea temporale del nostro prossimo agire. Con la nuova sede è questa la via che oggi apriamo e inauguriamo. Grazie. Dicevo prima i ringraziamenti. Ho il terrore di scordarmi qualcuno. Evidentemente sono coinvolte due o trecento persone, non si può fare l'elenco nominativo di tutti. Però, a partire dalla volontà dalla tenacia della visione del dottor Golinelli, al vicepresidente Zanotti, al consiglio di amministrazione, ai componenti dei passati consigli, a tutto lo staff della fondazione, a tutti i progettisti, gli architetti, tutti i professionisti che hanno partecipato a questa esperienza, a chi le ha realizzato, alle due imprese che hanno realizzato, dagli alti vertici a chi ha collaborato, tutti quanti sono entrati, hanno messo piede in questo cantiere e alle istituzioni. C'erano ancora provincia di Bologna e comune, ringraziamo i dirigenti funzionali della provincia, ringraziamo i dirigenti funzionali del comune, ringraziamo in particolare anche del comune il consiglio, la giunta, quasi tutti gli assessori e l'unica persona che evidentemente, sentitamente, ringraziamo qui oggi e a cui diamo un nome è il nostro sindaco Virginio Meola. Buona serata, signore e signori, cari amici, caro Marino, signor Ministro, signor Rettore, un saluto a tutti, è una giornata, è una serata importante, nel programma c'è scritto breve saluto delle istituzioni, cercherò di esserne all'altezza, quello che ci tengo a dire a tutti voi che questa opera parla da sola, parlerà tanto alla nostra città e sono sicuro parlerà all'Europa e al mondo. Vedete, con Marino Golinelli abbiamo sempre condiviso un'idea forte di città, noi pensiamo che Bologna abbia la reputazione e gli ingredienti e la pluralità per aspirare a essere una città che sta nel mondo e che fa della pluralità degli stili di vita e dell'educazione e della conoscenza e della cultura la sua prerogativa. Voi sapete che le città che ce la fanno nel mondo hanno la maggioranza degli abitanti lavoriati, hanno un bel contesto urbano, una buona coesione sociale, ma soprattutto hanno questa capacità di mettere avanti le opportunità per le persone perché la differenza la fanno le persone che abitano in un determinato contesto urbano. Quest'idea forte di città a cui candidiamo Bologna e a cui abbiamo lavorato in questi quattro anni trova completa sintonia nell'opus facere di Marino Golinelli, nel fatto di mettere appunto al centro l'educazione, la scienza, la cultura e di farne un investimento per il presente e soprattutto per il futuro della nostra città metropolitana. Una città metropolitana che su un milione di abitanti ha 120.000 stranieri residenti che vengono soprattutto dall'Europa ma ormai da ogni parte del mondo e che grazie alla nostra università, alle nostre imprese manufiatturiere e che oggi sono qui presenti, alle nostre imprese cooperative è una città che gode di forti relazioni con il mondo. Sapere attrarre, sapere accogliere significa secondo me avere delle buone chance da spendere per il futuro. Poi la demografia come ci insegna Marino e come ci insegna la nostra università non è un oroscopo ma è una scienza e questa scienza ci dice che sono davvero futili i ragionamenti sul fatto se dobbiamo accogliere o meno visto che già oggi Bologna è una città di oltre 100.000 anziani e che il 30% solo dei residenti è nato a Bologna. Cosa significa? Significa che abbiamo avuto la capacità in questi anni grazie alle nostre imprese alla nostra università al mondo delle professioni ai nostri studenti di fare la differenza e di essere riusciti a convivere trasformando i nuovi ingressi in opportunità per la nostra città quindi capirete il mio stato d'animo in questo periodo un po' confuso della vita nazionale quando ci si chiede di chiudere le porte e ci si chiede quindi di sparire come città ma non ce la faranno grazie anche all'iniziativa di Marino Golinelli e grazie al fatto che si afferma un'idea forte di città anche dal punto di vista urbanistico discusso con Marino del nostro piano urbanistico in questa zona non rimarrà un caso isolato la fondazione Marino Golinelli è in atto un processo di riqualificazione urbana c'è vicino una grande area quella dei prati di Caprara che stiamo inserendo in piani di valorizzazione che ci consegnerà un parco più grande dei giardini Margherita e con residenze e servizi vicino all'alta velocità e all'aeroporto nuove centralità urbane da affiancare al nostro centro storico perché noi tutti amiamo tantissimo il nostro centro storico ma per esserne all'altezza e non scavare nicchie di rancore nel nostro passato dobbiamo fare cose altrettanto belle fuori da quello che oggi chiamiamo centro per essere il centro della nostra città metropolitana grazie Marino hai dimostrato ancora una volta di essere il più giovane tra di noi davvero tanti auguri per questa impresa che sono sicuro contribuirà fortemente alla reputazione di Bologna nel mondo che è la cosa che conta di più per tutti noi grazie invito il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini buongiorno 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 a tutti grazie dell'invito vi rivolgete ai giovani e il diversamente giovane Marino Golinelli insieme a tanti altri ha dato vita a un progetto una fondazione straordinaria che parla da solo per stare anch'io nei pochi minuti come ha utilizzato molto bene il sindaco Merola vorrei dirvi tre riflessioni anche rispetto agli obiettivi le finalità che la fondazione si dà il primo io ieri ho partecipato all'Expo a Milano alla presentazione con la Wellness Foundation di Nero Alessandri al progetto della Wellness Valley in Romagna in Emilia Romagna c'è la più importante diciamo così area di wellness in Europa dentro a un campo Dario sa cosa mi riferisco cioè il turismo del wellness che insieme al turismo culturale sono i due filiere che più stanno crescendo nel mondo in termini di di spesa di investimenti e dunque di produzione anche di ricchezza che può essere distribuita ieri erano presenti delegazioni di governi di paesi imprenditori ricercatori docenti studiosi dell'alimentazione e della cura da tutto il mondo e abbiamo sentito l'orgoglio di come l'Emilia Romagna possa ogni tanto andare un po' più orgogliosa perfino di come si rappresenta nei confini fuori dai nostri tradizionali quando avevo sei anni nel 73 morì mio nonno che ne aveva 60 e io ricordo le discussioni dei miei familiari mentre mi venivano a prendere a scuola in prima alimentare mi portavano a casa perché era accaduto quel decesso sentivo dire vabbè ma l'era vece oggi se tu dicessi una persona di 60 anni che è anziana giustamente non marino si offenderebbe questo paese così bistrattato è il secondo paese al mondo per aspettative di vita dopo il Giappone 83 anni gli uomini 79 che avremo sì un paese sempre più via via di persone che vivono molto a lungo e in sé peraltro è un bene dall'altra parte il bisogno di cura di assistenza e questo può avvenire solo se una forte integrazione tra pubblico e privato nell'erogazione dei servizi nella qualità di quello che si offre può essere garantito al massimo livello e d'altra parte la vocazione come diceva benissimo il sindaco di una città Bologna città oggi metropolitana peraltro di una regione l'Emilia Romagna di cui Bologna è il perno l'hub come lo definisco sempre la porta di ingresso che vuole essere una regione sempre più europea una regione che parla sempre più al mondo e d'altra parte investire come voi vorrete fare come noi vogliamo fare per una regione che voglia essere e sono sicuro che anche per voi è così nei prossimi anni nei prossimi decenni competitiva con i territori più avanzati d'Europa e del mondo dobbiamo investire sulla conoscenza sulle intelligenze sulla qualità non solo perché l'investimento sul bene più prezioso che abbiamo che sono i nostri figli i nostri nipoti ma perché oggi che il cuore produttivo di questa regione vedo grandissimi imprenditori che addirittura hanno perfino acquisito imprese all'estero oggi che in Emilia Romagna avrete visto credo orgogliosi anche voi quando ho firmato col presidente Renzi a Palazzo Chigi e la D della Volkswagen quel accordo quel contratto che porterà non a Bratislava in Slovacchia ma nel cuore del bolognese la produzione del nuovo SUV della Lamborghini del 2018 ma potrei citare tanti altri marchi di multinazionali stranieri che oggi a differenza di quello che accadeva in passato verso il nostro paese stanno tornando ad investire in Italia e l'Emilia Romagna è protagonista e può trascinare questa attrattività perché per noi qui la qualità della vita non è solo la ricchezza che produciamo che in sé peraltro per me è un valore ma anche la ridistribuzione della stessa a partire da chi ha meno ma soprattutto l'idea di un welfare di qualità che si rivolga alle persone alle famiglie ai bambini agli anziani allora se è così investire in qualità significa investire in ricerca innovazione a proposito di biomedicale di medicina ho avuto il privilegio poche settimane fa insieme alla chiesi farmaceutici cinquantesimo gruppo al mondo per importanza nello studio della farmaceutica gruppo privato parmense insieme a uno spin off della regione uno spin off dell'università di Moda e Reggio Emilia attraverso la spesa dei fondi europei e l'arrivo attraverso la regione che li ha messi a disposizione per la creazione di quello spin off dove oggi lavorano ben 70 ricercatori e ricercatrici soprattutto giovani lì è nato nel cuore delle miglia romani in quell'esperienza tra pubblico e privato il primo farmaco al mondo che attraverso l'utilizzo delle cellule staminali curerà le corna e gli occhi per una malattia fino ad oggi che non era curabile ecco perché dico bisogna andare orgogliosi di quello che siamo delle eccellenze che abbiamo e però in un mondo in cui se ti fermi due settimane qualcun altro ti ha già superato l'unica nostra sfida è quella di garantire qualità eccellenza e in questo allora i due miliardi e mezzo di fondi europei che da qui al 2020 potremo spendere prima regione un mese fa che con la comfort letter da Bruxelles ci è arrivata ci ha permesso di poter dire che abbiamo già il via libera buona parte di quelli saranno messi a disposizione nei bandi ad hoc e destinati per le imprese per il territorio per i comuni le città metropolitane per puntare sulla qualità di ciò che produciamo ad esempio ho firmato e concludo poche settimane fa nel Guangdong un protocollo d'intesa con la provincia più ricca e più popolosa 106 milioni di abitanti a proposito di un mondo che cambia un paese nel quale anni fa se ne volevi discutere e parlare era perché avevi voglia di andarci a fare il turista oggi da alcuni anni quello con altri grandi paesi lì vicino competitori nostri e competitori per le nostre imprese ma eppure hanno cercato noi per fare un protocollo che investa ad esempio sul tema della sicurezza alimentare un tema gigantesco di discussione nei prossimi anni sul tema della qualità dell'aria un altro tema gigantesco per quei luoghi in cui si crescono ma problemi che qui abbiamo conosciuto tanti anni fa stanno cominciando a muovere le coscienze di quei milioni di persone e poi il tema del rapporto tra imprese perché qui la qualità che trova non si trova da nessun'altra parte e siccome avete letto abbiamo chiuso il 2014 con l'export di questa regione non solo prima in Italia per crescita sull'anno precedente ma primi davanti ai distretti manufatturieri tedeschi sempre più noi allora dovremo investire lì perché un Vietnam che produrrà a costi inferiori e con un costo del lavoro più basso ci sarà per altri 50-100 anni ma la qualità di ciò che si produce qui non si troverà facilmente da altre parti e allora siccome le buone mani artigiane però degli anni 60-70-80 se non incrociano la scienza e la tecnologia non sono più quelle stesse mani noi dobbiamo investire lì e se investiamo in cultura in conoscenza in innovazione in ricerca in formazione allora questa regione davvero non può temere la sfida di nessuno e per questo che abbiamo deciso non ci credeva nessuno quando lo dicevo in campagna elettorale triplicheremo i fondi alla cultura nei prossimi 5 anni già quest'anno abbiamo aumentato del 56% i fondi lì perché crediamo peraltro che investire in cultura sia anche investire non solo in conoscenza in un valore aggiunto per le cose che ha appena detto e che ha detto molto bene Merola ma anche perché crediamo possa creare nei prossimi anni nuova occupazione mentre ero in cina mi sono recato a Hong Kong la cineteca di Bologna che sapete e andiamone orgogliose è quella che restaura qualsiasi patrimonio cinematografico del mondo appena restaurato il patrimonio dei film di Charlie Chaplin come quelli di Sergio Leone ha appena aperto e noi abbiamo dato una mano e un contributo una sua dependence chiamiamola così ad Hong Kong l'immagine ritrovata verso l'Asia che proverà a restaurare i film di tutto quel bellissima parte del mondo insomma possiamo essere protagonisti quello che avete fatto voi è di esempio anche per noi per dirci che sempre più un rapporto tra istituzioni fondazioni bancarie fondazioni private altre istituzioni e privati nel territorio ognuno nella propria autonomia se lavoreremo insieme si potrà fare bene quando ero piccolo si diceva chi va da solo va forte ma per andare lontano bisogna andare insieme anche se si va un po' più lenti nel mondo globalizzato quella dicotomia non vale più niente oggi se si va lenti o se si va da soli non si va più da nessuna parte per questo se lavoreremo insieme credo che potremo scrivere una nuova bella pagina all'altezza della storia di questa regione grazie grazie presidente evidentemente dei tanti partner che citavo della fondazione Golinelli partner scientifici il rapporto privilegiato che è stato sempre un onore poter collaborare e anzi ci auguriamo che dal punto di vista istituzionale sempre di più ci sarà questa vicinanza con l'Arma Mater Università di Bologna e invito il magnifico rettore Ivano Dionigi grazie buon pomeriggio a tutti a quanti in questa città o nel nostro paese con ormai con insopportabile autolesionismo dicono che non avviene nulla avrebbe voglia di dire non vorrei essere in proprio blasfemo venite e vedete venite e vedete la differenza che c'è tra le chiacchiere e i progetti tra il dire e il fare tra il promettere e il mantenere si va dicendo in ogni dove che l'epoca della conoscenza che a fronte di questo c'è un deficit di cultura ebbene Marino Golinelli ha preso sul serio questo primato dell'era della conoscenza è parallelamente con il deficit di cultura e ha cercato di porgli rimedio si dice che c'è un problema dei giovani che è prioritario che sono frustrati non trovano lavoro motivazioni ebbene questo peficio si è ben inteso Marino e soprattutto volta ai giovani prima in un colloquio privato si diceva ma quanti è vero che hai chiedeva il ministro Franceschini è vero che hai 95 anni sì ma come fai qual è il segreto il segreto è la curiosità ed è il trucco e il futuro degli altri ed specificamente il futuro dei giovani una bella chiosa una bella dimostrazione di quello che diceva Norberto Bobbio che ci sono i giovani vecchi e i vecchi giovani è un regalo questo soprattutto credo ai giovani ai giovanissimi a cominciare da quando si è bambini alla città e al paese questo miracolo che coniuga io la leggo così ognuno ha il suo lessico di arse e di ingenium di tecnica e di creatività e di immaginazione a me piace vedere è stato ripetuto prima per tre volte questo sapere olistico che tiene tutti insieme i vari saperi mi piace immaginare anche perché è stata l'idea originaria di questa parentela di questa sintonia con la grande alma mater che è uno studio generale di tutti i saperi visto che Marino hai usato anche tu una parola sono autorizzato latina allora opificio opus facem e concludo proprio con una battuta proprio del mio Seneca perché noi quando parliamo di scienza parliamo di tecnologia e di cultura ne vediamo l'aspetto di formazione individuale la ricaduta economica ne vediamo tanti l'aspetto sociale c'è un aspetto che rischia di sfuggire ma che è prioritario che governa tutti che è l'aspetto etico e il mio Seneca ha la domanda che cos'è il bene qui des bonum diceva scienziarerum la conoscenza qui des malum ignoranziarerum è più facile il latino dell'italiano grazie grazie professor Dionigi adesso abbiamo dieci minuti un momento di stacco musicale che poi preludio alle conclusioni che saranno affidate al ministro Franceschini e ovviamente l'ultima parola al protagonista al dottor Golinelli invito il professor Zanà a introdurre i musicisti a cui chiedo cortesemente di avvicinarsi al palco abbiamo deciso di tenervi un po' sulla corda anzi non su una ma su dieci corde le quattro del contrabbasso di Stefano Zanotti con il quale non siamo per niente parenti ma ci siamo conosciuti oggi e le sei della chitarra di Walter Zanetti prego allora entrambi sono di provenienza di formazione classica Walter Zanetti insegna al conservatorio di Bologna e Zanotti insegna al bus lab e eseguiranno siccome abbiamo parlato di un mondo imprevedibile eseguiranno tre linee melodiche che si intrecceranno e dandovi la sensazione di come ci si possa perdere e ritrovare imprevedibilmente anche nella musica la prima linea melodica è Postcard to Solta di Gadi Pitchcock la seconda è Tramonto di Ralph Tower e la terza è Nardis di Miles Davis buon ascolto di Gadi Pitchcock Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.